e questa è la pattuglia acrobatica pericolosissimo questo individuo qua ma se tu sardino riprende parte subito allora attendo qua noi adesso ne andiamo a fare il giro dal titolo Magna e bevi coi lupi anzi vai con me che ti fanno io e perché Magna e bevi coi lupi perché Gavina è anche il lupo adesso le conseguenze noi andremo a fare questo giro qua che purtroppo voi sarà bellissimo perché la venite a provare posto meraviglioso itinerario meticoloso ma voi non potete dare essere dove si va nelle tracce goderemo noi per voi ma guarda che guarda 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 che numero dai dai che sei in diretta su bike channel sì sì perfetto cosa non fare grandissimo vai 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 c'è la corrente ma se l'attacco la bici la ricarica anche guarda metteremo qui prova a posto qualche caffè ma non ti senti d'amore oh pantanello vai 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 non fermarla non fermarla non fermarla aspettate un attimo che devo andare a lavar la bici guarda che se stiamo qua alle 5 e mezza domani bisogna mungerla anche guarda che Sì, ecco! mi tocca incrociare le linee perché non vedo che cosa c'è davanti è tutto natural non che ci sono i naturisti avventure è ok si no tutti è un po' avventure vai a vista, a vista, a vista, a vista, a vista è giù che? e poi non ci mi soppiarsi in mezzo a volto non ci sono che c'è una birra nascosta la GPDM no? questa è un gran premio della montagna per i birra nascosti gran premio mangi e bevi coi lupi mangi e bevi coi lupi sbaglio sempre in linea vuoi partire da lì? dai che ce la fai bravissimo si presta al gran premio della montagna dai Marco dai 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 io calcavo le piante anche se ho perso 4 è ok dai 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 adesso dai dai non c'è niente da fare dai 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 fuori Fabio va che conto su di ti a te bevo a te bevo mia birra se te metti zompie dai 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 putana putana e vai io ho fatto posto all'ospedale e l'ospedale quindi mi ho scusa di fermarmi perché dai fermo io Marco guarda che batteria guarda che sconto le batterie mi vuoi la brusa e la macchina brusa salute no ma che ti riprendi di nascosto no? no io riprendo di faccia proprio ahahah 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 che cossi chiedemo di lavorare perché c'è tutto il compagno la luce sì non si può comunque postare sono fisse andata vai vai bravo vick a nini grande Oh Fabio, è così forte nei coglioni mi sono preso la sella nel ribalzo grande capo ma il capo grande capo grande capo Marco Marco che dirapone ho perso la bottiglia guarda guarda che luna guarda che luna non ho mai fatto Svetto Kiko non comment capo non comment un saluto un saluto non vedo l'ora non avendo l'orologio eh no adesso non stiamo sparando perchè ah 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 non ah 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 arriva tanto e mi corsa oh Claudio, se non dovessi farcela, ti saluti i parenti che cazzo non ce l'ho buona è una variante ma non si può fare in bici? no 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 bravi bravi ciao 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 bravissimo è simpaticissimo piaciuto stare lì dietro madonna siamo un capriolo salta dappertutto per me grazie poi ti faccio sentire la registrazione di Kiko no 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 faccio sentire la registrazione di Kiko no dopo si faceva come così come lì guardiamo una volta solo basta effimera no no mi sei a attaccare le labbra eh no 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 ecco che perdiamo le birre sembriamo i sette nani faccio anche l'orario ok senza fare pubblicità niente a nessuno dunque per ricordarci qual è l'albero è quello dove sono le birre ci no no ahahahah